Ben trovati ancora su Canale 3 Toscana, post-TG, abbiamo il piacere di avere con noi il Presidente Massimo Vita, ben trovato Presidente. Buonasera a te, buonasera agli spettatori. Allora, siamo alla vigilia di una settimana importante, la settimana sulla prevenzione del glaucoma. Tante le iniziative che avete messo in campo, finalmente la possibilità di ritornare anche a poter far usufruire i cittadini di servizi che l'Associazione mette a disposizione. Ci racconta tutto? Sì, finalmente dopo tre anni di quasi assoluto fermo in questa materia, perché l'anno scorso abbiamo fatto qualcosina, ma solo a livello di diffusione di informazioni, quest'anno ritorniamo con le visite in piazza, ci ritroveremo dal 12 al 18 marzo per la settimana mondiale del glaucoma. Mercoledì e sabato, mattina e pomeriggio, saremo nella Contrada del Drago a fare le visite gratuite per la prevenzione del glaucoma. Ci saranno oculisti specializzati, perché coinvolta il nostro oculista di riferimento Simone Bagaglia, ma anche gli oculisti dell'Università di Siena, con il professor Tosi in testa, che come al solito collabora con noi in maniera assolutamente gratuita. Faremo questi due giorni qui, una mezzogiornata a Monteroni, una giornata intera in uno studio che a breve sarà comunicato, ma anche un incontro con gli studenti. Lo annunciamo in anticipo per che la popolazione si possa preparare, seguirci sui nostri social, sul nostro sito, dove ci saranno tutti gli orari precisi, quello che faremo, dove, soprattutto per diffondere la notizia e per farla conoscere, perché dopo tre anni che non siamo più in piazza, la gente ha perso un po' l'abitudine eventualmente. Prima ci cercavano, lo sapevano e noi c'eravamo. Adesso è un po' che manchiamo, quindi se ci date una mano a divulgare le notizie, l'Unione Italiana Ciechi con gli oculisti ritornano in piazza per curare, per prevenire questa malattia che è chiamata ladro silenzioso della vista, perché fino a che non fa danni non dà sintomi, quindi è pericolosissima. Se invece facciamo prevenzione si può curare, si può evitare che porti a disabilità visiva, se non addirittura a cecità. C'è un altro appello importante, Presidente, che vuole lanciare, quello riguardante il servizio civile. Ce ne eravamo già occupati un po' di giorni fa, ma ribadiamo questa importante possibilità. Questo è ovviamente un appello verso i giovanissimi. Io ti ringrazio, giovani e famiglie, perché purtroppo quest'anno, nonostante tante volte che sono venuto in televisione, sui giornali, purtroppo dobbiamo denunciare, allarmarci perché le richieste non arrivano. Noi abbiamo quattro posti disponibili, ne sono arrivate solo due richieste, ma questo non ci consente di fare selezione, abbiamo bisogno di tante persone che facciano domande presso di noi. Per fortuna c'è ancora qualche giorno di tempo, perché c'è stata la proroga, scaderà alle ore 12 di giorno 20 il tempo, ci vuole lo speed. Io spero che questo ultimo appello che lancio tramite la vostra televisione possa essere ascoltato. È un'opportunità, da noi non dovete venire a fare un servizio, da noi dovete venire per uno scambio di esperienza e per un arricchimento reciproco. Noi cerchiamo persone con le quali dialogare e crescere insieme. Venite, magari venite a trovarci anche prima se volete, la nostra sede è in Viale Cavour 134, siamo ben lieti di darvi spiegazioni e farci conoscere. Io sono fiducioso fino all'ultima ora. Assolutamente, noi con piacere divulghiamo questi due importanti appelli, quindi la prevenzione, nella settimana dedicata alla prevenzione del glaucoma con tutte le attività in campo che il Presidente Vita ha enunciato e che ovviamente sul sito dell'Associazione Italiana Cechi potete trovare. E poi ovviamente il tema importante del servizio civile come opportunità di crescita, di scambio umano, come il Presidente sottolineava. Presidente, io la ringrazio, ovviamente buon lavoro per questi importanti giorni e fate prevenzione perché è lo strumento più potente che abbiamo. Prevenire è meglio che curare, si dice. Sempre, quello sempre. Grazie per l'attenzione e grazie al Presidente Vita per la sua disponibilità. Arrivederci.